Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Sapete che giorno è oggi? Ma certo che lo sapete, certo che lo sapete Oggi è martedì, martedì In realtà non ho alcuna influenza che sia martedì, giovedì, venerdì, sabato Quello che resta della settimana Oggi è il 19 maggio Martedì, 19 maggio Martedì, 19 maggio Sapete che cosa esce oggi? Ma certo che lo sapete, certo che lo sapete Cosa esce oggi? Dai, dai Esatto Esce The Witcher Wild Hunt The Witcher 3, certo La risposta è corretta, ma No, ok, per carità Non ci soffermiamo su quello Cosa esce di altro? Dai, così A che altro? Dai, cosa esce? Bam, eh? Lo sai, sono infognato come una merda di Destiny Quindi cosa esce oggi? Il casato dei lupi? Sì, esatto Esce anche quello, ma Non so perché faccio no anche le... vabbè Oggi, signori Sono lieto di pronunciare Al mondo che lancerò la mia gamma di periferiche da cucina Ebbene sì, ebbene sì, signori Stiamo parlando di coltelli con ingresso USB Non hanno alcuna utilità Frullatore USB Attaccare una presa della corrente? Idioti! Utilizzate una presa USB Che non darà mai l'alimentazione sufficiente per farlo funzionare Ma vi si accenderanno le luci Le periferiche da cucina Lego, signori Sono presenti sul mercato Le trovate qua sotto Le trovate nel mio referral Amazon Tutto referral, no? Perché si fanno i money Quindi vi consiglio di comprare delle periferiche Che non sono mai state testate Signori! Sento Destiny Destiny! Che cazzo ho parlato? Che cazzo è stato? E io, eccomi Stavate parlando di Destiny? Parlavate di me? Più o meno è così Io sono impugnato con non so cosa Oggi esce Destiny, signori Sì, il casato dei lupi Ore 19 sarà disponibile Che cosa? Perché sono qui? Perché sono qui davanti a questa bellissima telecamera Per limonarci? No, quello non faccio la telecamera Aspetta Mi piace così Oggi sono qui con questo video Veloce Fresco Frizzato Per annunciarvi che questa sera Logicamente streamerò Quindi questa sera Magari Voi non avete Destiny Non giocate a Destiny Non ve ne frega niente di Destiny Venite a seguirmi Vi chiederete il perché La risposta è che magari Non avete un cazzo da fare Perché se state guardando questo video Probabilmente avete un sacco di tempo libero Quindi mi raccomando Stasera alle ore 18.45 Collegatevi sul mio canale Twitch Se voleste visualizzare questa stream Oppure sul canale di Twitch di Eurogamer Italia È assolutamente la stessa cosa Perché tanto va da una parte e dall'altra Mi trovate da tutte Cioè, incredibile Mi trovate su due canali contemporaneamente Pensate lo sdroco Cioè, è una cosa terribile Cioè, bastava un Lego da una parte No, su due parti Il devasto Il degrado proprio Venite Per anche quelle persone che magari Giocano già a Destiny Venite a seguirmi Quelle persone che magari Non hanno ancora preso il DLC Venite a seguirmi Insomma, venite tutti Per vivere anche questa avventura Del casato dei lupi Insieme a quello che può essere Un amico Che sarei io Uno youtuber Un money grabber Cioè, certo anche quello Ma diciamocelo Perché credete Che faccio la stream Perché a gratis No, io sono fuoco Infatti L'ho messa qua E Eurogamer mi ha chiesto Vuoi fare la stream E io gli ho detto Certo però Però me paghi Me paghi Ragazzi Me paghi Non è che sono scemo E infatti gli ho detto Quanto hanno sganciato Le ragazze Quanto hanno sganciato Mica La stream di Lego Mica Niente Niente che abbia un valore commerciale Ma questa maglietta Signori Cioè io gli ho detto Io veramente al telefono Ho detto Cioè mi faresti la stream Mi ho detto Sì Però una cosa Mi devi fare avere la maglietta Del casato dei lupi Cioè qua Destiny Let the hunt begin Lascia che La caccia abbia inizio Activision Bungie Qua sul lato Ma poi non lo dici Qua cancello poi Activision Ci passo dell'alco Dovevo andare No comunque La maglietta signori Buongiorno Ragazzi Questa sera Ore 18.45 Collegatevi su Twitch Andrò in Honda E continuerò per tutta la serata Fino a che Probabilmente alle ore 11 Poi devo staccare Perché io continuerò a giocare Però stacco Perché se no potreste vedere Una situazione Tipo in cui La porta viene sfondata Dalla SWOT Vestita in pigiama La SWOT vestita in pigiama Consiste in mia madre E mia sorella probabilmente Che sfondano la porta E mi minacciano di morte Tipo tu Adesso spegni Oppure ti tiro una sberla Che Quelle di Fantozzi Che poi non sono Fantozzi Ma lo dia un altro personaggio Che quelle di Buzz Spencer In confronto Non sono un caso Quindi io Nel rischio Probabilmente staccherò Intorno alle ore 11 Quindi seguite 18.45 Ore 11 Lego streamerà Se continuerò A andare avanti Probabilmente sarà A rischio della mia vita Mi raccomando Venite numerosi Sono veramente contento Non vedo l'ora che esca Venite con me A vivere questa esperienza Però di potervi Intrattenere E poterci divertire In maniera reciproca Adesso basta Perché do che Questo video Perché Perché se no poi non Tempo che esca E io ho già finito la stream Quindi non basta Insomma Poi non l'avete sentito Abbastanza Ciao 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 Come ci spiego Ciao 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 Grazie a tutti.